Buongiorno, oggi è un altro sonno, stiamo per ripartire da Ravardo dove siamo? Abbiamo un bel pozzino. Mamma, mamma, cosa mi vuole fare questo carne? Grande grosso! Siamo a Najera. Allora, questo è un monastero. Ah, che bella posta. Un po' piccolino, basso. Attila, come stai? Ciao mamma! Dove andiamo oggi? E adesso andiamo a vedere. Oggi abbiamo risparmiato un po' di foto, tanti panorami, diciamo, in foto rendono poco. Sempre grano, erba, paesaggi bellissimi, ma in foto rendono veramente poco. Per fortuna anche il tempo ci ha un po' graziati. Vediamo. Eh, ho visto le magliette di Santiago. Eh, ho visto le magliette di Santiago. Sembra il bel cammino. alle baziati! Sì, ma poi con le montagne, adesso. Allora. Sì, ma poi, due bati. Grazie. Sì. E' vero la ciccona sopra? Sì. E' vero la ciccona sopra? Sì. 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 Vedete che le lascia in pace a loro? Sì. Sì. Vedete che le lascia in pace a loro? Non è vede che il Lastly. E' diverso altro. Vado a scavalcare quella non? Sì. Si! Vado a scavalcare quella non? Ken, vado a scavalcare quella non è. 자연Hayer. Vado a scavalcare quella non è. alla montagna li le cose qua. fosse strano department mantenere. Mostra la, ma sorta di crema candi per noi. per essere quella che abbiamo visto prima di là che mi sembra acciuta ma vedo tutte le chiese di acqua sanziale a e a a Questa è un monastero, questo è un monastero. Monastero Santa Maria La Real. Riprendiamo il nostro cammino.